Una precisa e ben definita catena di responsabilità con il concorso di colpose omissioni da parte di più enti. Se anche uno di questi, comune di Farindola e Regione, nella fase di previsione e prevenzione dei rischi connessi al territorio, la provincia di Pescara e la prefettura, nella fase di gestione dell'emergenza di quei drammatici giorni del gennaio del 2017, avessero correttamente adempiuto i doveri connessi al ruolo istituzionale, il disastro, le morti e le lesioni conseguenti non si sarebbero verificati perché o l'hotel non sarebbe stato edificato, o l'hotel, benché edificato, non sarebbe stato in funzione a seguito di specifica ordinanza di sgombero, oppure l'hotel, rimasto operativo nonostante l'emergenza neve, sarebbe stato osservito da una strada percorribile, la provinciale 8, unica via di fuga dalla struttura. Questo è il passeggio chiave della relazione della sostituto procuratore di Pescara, applicato per l'occasione alla Corte d'Appello dell'Aquila, Anna Maria Benigni, ieri nella prima udienza del processo di secondo grado a carico dei 30 imputati per la morte di 29 persone sotto le macerie dell'hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga. In circa due ore di relazione, la Benigni e il suo collega Massimo Papalia hanno ribadito e circostanziato l'impianto accusatorio illustrando le 300 pagine di ricorso in appello avverso alla sentenza di assoluzione per 25 dei 30 imputati emessa dal gruppo San Andrea in primo grado lo scorso 23 febbraio. Compito dei massimi rappresentanti delle istituzioni è quello di vigilare sulla sicurezza dei cittadini e questo impone una visione alta che deve tener conto anche dell'imponderabilità e poco conta se la valanga sia stata spontanea o sismo indotta. Non è la causa dell'evento a dover essere oggetto di previsione ma il suo accadimento, così hanno dichiarato i sostituti procuratori Benigni e Papalia ribadendo alla richiesta di condanna già fatta in primo grado per 27 dei 30 imputati. Da qui a febbraio 2024 si attendono udienze molto calde al cospetto della Presidente del Collegio dei Giudici Aldo Manfredi, da quella riservata alle parti civili di mercoledì prossimo a quelle degli avvocati difensori a partire dal 20 dicembre, ultima udienza prima della pausa per le feste natalizie, quando ci sarà la ringa degli avvocati di Paolo Dinceco e Mauro Di Blasio, i dirigenti della provincia, unici condannati insieme al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, i cui legali hanno presentato istanza di integrazione delle prove difensive già rigettata dalla Procura.